Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Arnold Buonasera a tutti In piedi Davanti al pubblico In piedi Caro pubblico di Villarica Benvenuti a questa seconda manifestazione di World of Peace Siamo qui a Villarica questa ridente cittadina alle porte di... Oh 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 Ma se io ti ho visto che mi sono meravigliato, ma tu hai un buono, non ce l'ha? No, 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 allora facciamo così, uniamo le tue meraviglie, allora metti una meraviglia che è proprio una cifrezzata, una meraviglia che hai di più tusso a te, e vediamo di humilde, perché sinceramente non so ne ho più. Hai capito? No, però sinceramente ragazzi, deve essere una meraviglia di controlla, non guardate di mettere in tutta, guardate di mannarsi o distraire la vita, ma lo fanno tutti che ha fatto. Buonasera caro pubblico! Buonasera a tutti signori, buonasera. Buonasera, benvenuti a Pela Ricca! Buonasera, benvenuti a tutti signori, buonasera. Buonasera, benvenuti qui al World of Peace! Buonasera, benvenuti a tutti, cacciati, ci siamo qui questa sera per presentarvi nel nostro spettacolo di Tabari, uno spettacolo... Ma che notiamo tra il pubblico signori? Chi c'è questa sera in questo al pubblico signori? Facciamo a lui un grande applauso! Un grande applauso a signore Enzo, se stesso! No, dai, lascia stare, sono venuto qui di passaggio, poi da qui si sono andati a loro. No, ma adesso si deve onorare della sua presenza. No, ma assolutamente, mi ha accompagnato la signorina a prendere un pezzo di mano. Si, no, si deve onorare della sua presenza perché ci siamo qui, ci siamo qui. Mi sto divertendo, siete molto bravi. Facciamo un applauso a questi ragazzi, sono bravissimi, salva! Si accomodi qui, si deve a prendere il tuo applauso! No, però siccome non capite che sei tu, adesso vieni qua, dai! Ezzio è stisi, non significa che sei tu, ma adesso vieni qua, dai! Ezzio è stisi, ma io non cagliace che cosa si è chiesto. Ezzio è stisi! Ezzio è stisi, ma il sangue è stisi, ma non è stisi. Ezzio è stisi! Buonapplauso a Enzo! Destiso! è disteso lei si chiama proprio disteso come i panni? no come i peli perché dite come inizia? è un caio di onore di una sua freddura di una sua aria non mi sembra il caso un'aria aperta qui non ci può fare assolutamente c'è questo calorosissimo pubblico non so ci faccia uno sketch o qualcosa la gente si sta divertendo assolutamente no io veramente vi faccio mili complimenti grazie poi diciamo che io non sono neanche abituato a recitare qui su questo palco senza salve senza senza casse senza microfono e poi i costumi e i microfoni e le parrucci sicuramente le parrucci ma non lo vedo ma non c'è ma non lo vedo ma non lo vedo ma non lo vedo ma煮 unlinesor è ma non lo vedo 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 Grazie a tutti.